Lucky is a man who wants a kid who can do all the things that make us... Suck my cock, motherfucker! Meno male, temevo di dover tornare a live con Kelly e Peter. Che palle, era estonuante fare qui sorrisi a bocca aperta durante le interviste degli ospiti. Siamo qui con l'attrice di The Good Wife, Christine Baranski. Allora, Christine, tu hai vinto un Emmy, dico bene? Sì, per il ruolo di Marianne in Sable. Ma il mio personaggio in The Good Wife è diametralmente opposto a Marianne. Hai anche una splendida carriera teatrale. Se non sbaglio, hai vinto anche un Tony. Beh, veramente ne ho vinti due. Un'ultima domanda, cara. Tu chi sei? Pensavo di vincere i soldi per farmi quella plastica che ho sempre voluto. Oh mio Dio, ma guardalo! È così carino! Sono piccolo, perciò lo posso fare. Ehi Joe, con che frequenza fai sesso con Bonnie? Beh, la mia assicurazione mi passa l'attrezzatura solo una volta all'anno. Perché? Lois praticamente non lo vuole fare più. Sto diventando pazzo. Ah, ti capisco. Ehi Quagmire, fatti un grande favore. Non sposarti. Non mi sposo. Bene. Non sposarti. Non mi sposo. Perfetto. Non sposarti. Joe, il fatto che tu mi dica di non sposarmi non ha effetto su di me. Non voglio sposarmi. Bene. Non sposarti. Capito, ragazzi? Di stare senza sesso non va bene. Ho bisogno di uno sfogo. Sai, Peter, ho proprio quello che fa per te. C'è una nuova ragazza alla linea erotica ed è eccezionale. Ah, non lo so. Non sarebbe come tradire Lois? No, è sesso al telefono. Come si dice, telefonare non è trombare. Sì. Beh, potrei provarci. Fidati, Peter. Ehi, ho fatto bene a dirti di andare dal ginecologo, no? Vorrei vedere delle vaggie, per cortesia. Siamo qui per questo. Si accomodi. Perché ci dice queste cose? Che cosa vuole da noi? Vuoi la verità? Sto cercando di vendere casa e mi serve qualcuno che venga a vederla per invogliare la gente a comprarla. Wow, il prezzo a metro quadro è molto competitivo rispetto a casi simili nella stessa zona. Sì, anche a me piace tanto. La compro subito se qualcun altro non fa un'offerta migliore. Beh, cosa te lo impedisce? Sei sempre stato poco limpido nel nostro rapporto. Sai quanto mi hai ferito quando hai fatto una pausa prima di presentarmi ai tuoi genitori? Lo stesso motivo per cui non hai accettato quel lavoro a Deber. Mi scusi, non volevo farle perdere tempo, ma mi sono ricordata che mio marito è un vigliacco di... Oh, Peter, voglio gridare così tanto che dovremmo cambiare parrocchia. Che schifo! Voglio prenderti fino a ridurti come un sacchetto esploso nel microonde. Oh, mio Dio! Mi interessa fare una cosina a due e un quarto? Sai, Brian, questo zainetto mi sembra un po' più leggero di prima. Beh, te l'avrei detto più tardi, ma ho usato un po' dalla mia parte per mettere a posto una questione personale. D'accordo, bene. Fatto. Grazie della disponibilità, Bonnie. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Certo, Lois. Qual è il problema? Beh, è una storia piuttosto lunga. Vedi... Otto c***o di ore dopo! Oh, mio Dio! Quindi, in effetti, Peter sta per tradirti. Lois, devi assolutamente mettere un limite. Lo so. Ci sono tante cose assurde che ho fatto passare a Peter. Ho anche tenuto la lingua a freno durante la sua fase anime. Ehi, Lois! Voglio viaggiare nel tempo a superostrica con nobile Quagmire e mostro Rotelle Joe! A tutta forza! Oh, un falco! Fico! Ciao, falco! Oh, facci piano, bello! Il nome è Cerse. Si chiama Cerse. Ah, e cosa mangia Cerse? Roditori. Ora, se vuoi scusare... Ah! Ma che diavolo? Ah! Fallo smettere, Peter! Ehi, ma cos'hai là in basso, Quagmire? Hai qualcosa che ti rode? Ah, no! Beh, Cerse pare convinto di sì. Fallo smettere, Peter! Ammetti che ti rode là sotto! Peter! Ammettilo! Hai visto? L'hai spaventato! Tony, torna qui! Vorrei che il mio papà fosse qui. Lui sa sempre cosa fare. Oh, porca puttana. Meglio lasciare un biglietto. È la cosa più civile. Brutto figlio! Ah! Stewie! E adesso va a procurarti i soldi. Oh, mio Dio, Stewie, no! Sono stato prenotato per tre ore da un certo Archibald mutandine di seta. E... è morto. Ok, ma ad ogni modo io devo essere pagato, altrimenti ti apro come un melone. Beh, ci siamo? Credo di sì. Contiamo fino a tre? Sì. Uno, due, tre! Scusa, non posso! Io voglio vivere! Non pensavo che l'avremmo fatto davvero! Stroncio! Oh, mio Dio! Brian! Brian, no! Oddio, che cosa ho fatto? È meglio che vada via di qui. Ma che cavolo? Da dove vengono questi? Beh, credo che Archibald mutandine di seta stanotte si divertirà. Eui, ma che cavolo? Ma come è possibile? Oh, mio Dio! È... è possibile? Che diavolo è successo? Il teletrasporto ha funzionato! Certo, è così che siamo arrivati qui. No, tu sei arrivato così. Io ho preso l'aereo. La macchina deve aver creato due coppie. Una teletrasportata a Las Vegas e l'altra no. Stai scherzando? È incredibile! Lo so! Aspetta, dov'è l'altro me? Oh, eh... cosa? Dov'è lo steward con cui sei partito? Oh, beh... è arrivato uno scagnozzo per ucciderti. Io ho cercato di buttarmi davanti al proiettile, ma deve essermi passato sotto una scella o una gamba perché ti è esploso in faccia. Aspetta, e l'altro me? Oh, che cosa triste! Ti sei tolto la vita! Ho cercato di vissuaderti, ma ti sei lanciato da un balcone! La gente continua a tornare ogni ora perché pensa che sia uno show estremo, sai, tipo il vulcano o la nave pirata. Wow! Hey! Hey!